Nell'era 2.0 gli studenti diventano insegnanti. Gli alunni con elevate competenze informatiche dell'Istituto Epiafermi di Agrigento diventano tutor di 10 anziani mettendo a disposizione le loro conoscenze in campo informatico. Innanzitutto questa esperienza mi ha insegnato a crescere moltissimo perché nei confronti di una persona più anziana, quindi più grande di me, le conoscenze sono superiori. Però per le nuove tecnologie, cioè per noi, è più intuitivo usare un computer che andare in un ufficio e prelevare qualcosa, perché ormai si fa tutto online, si fa tutto sulla rete, si fa tutto con la tecnologia. E l'artigianato è poco diffuso, diciamo, su questa tematica. È stata un'esperienza davvero bella, cioè che fa crescere, perché ho visto l'ingenuità di queste persone adulte che avevano voglia di sapere come funziona il mondo di internet, come funziona la tecnologia. Un progetto nazionale per cui sono state scelte solo 15 scuole in tutta Italia. Il progetto si chiama Tra Generazioni, l'Unione crea il lavoro. Ed è un progetto che ha dei patti nelle deccezioni, nel senso che, oltre alla nostra scuola, faranno parte la fondazione Mondo Digitale, Google e la CNA. Questo progetto, in realtà, ha come obiettivo proprio uno scambio tra intergenerazionali, diciamo, ed è uno scambio di sapere e di competenze che avvengono tra i giovani e, diciamo, questi nonni, questi over 60. e, praticamente, i ragazzi, dal canto loro, avvieranno questi nonni all'interno dei segreti del web. Ma, d'altro canto, i nonni, queste persone adulte, possano trasmettere ai nostri ragazzi le loro competenze professionali. L'iniziativa è promossa da Fondazione Mondo Digitale e CNA Pensionati in collaborazione con Google. Ma questo è un esperimento che era cominciato in altre parti d'Italia. Per la prima volta, quest'anno, lo facciamo in Sicilia, in tre province siciliane, ed è un'esperienza eccezionale perché agli anziani, ai pensionati artigiani, dà il senso che tutta la loro vita è stata spesa bene. È una generazione che, purtroppo, con l'informatica non si approccia facilmente, che sono gli anziani pensionati, pensionati nel mondo dell'artigianato, quindi che trasfereranno ai ragazzi le loro esperienze acquisite durante il corso, durante la loro attività lavorativa, ma trasfereranno anche tanta seggezza e tante esperienze acquisite nel tempo. I ragazzi, invece, che sono forti in questo settore, in questo settore dell'informatica, trasfereranno le loro conoscenze informatiche agli anziani. Ancora per...